Chiaramente per quello che riguarda la manovra la questione centrale è il tema del rinnovo dei contratti. Voi sapete che noi abbiamo stanziato complessivamente 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Il contratto che riguarda il comparto è scaduto nel 2021, se non vado errata, quindi insomma è tra quelli sicuramente un contratto che ha bisogno di essere rinnovato. In base ai calcoli che noi abbiamo effettuato, che ha effettuato il Ministero dell'Economia, tenendo conto chiaramente della massa salariale, delle retribuzioni medie e anche delle nostre priorità, perché io ho detto nella conferenza stampa che riguardava la religione di bilancio che per noi il comparto difesa e sicurezza era una priorità, diciamo noi riteniamo che non meno di 1,4 miliardi di questi destinati al rinnovo dei contratti debbano essere destinati alle forze di polizia e alle forze armate e altri 100 milioni per quello che riguarda i vigili del fuoco. Quindi complessivamente un miliardo e mezzo di queste risorse dovrebbe essere interamente destinato al comparto che voi rappresentate. Se sommiamo a quelle che avevamo già previsto con la precedente legge di bilancio, la ricaduta che noi stimiamo in termini economici sui rinnovi contrattuali dovrebbe essere pari a un aumento medio delle retribuzioni che si aggira intorno al 5,8%, quindi quasi il 6%.